Benvenuti sul canale di Grananas, e oggi siamo qui, un nuovo pack opening, dopo la bellissima sorpresona di Lionel Messi o Lionel, o come cazzo lo potete chiamare, siamo tornati con i Toz, possiamo andare sul negozio, faccio io tranquillo, vai vai, primo pacchetto ragazzi ci dirà bene, ci dirà bene, troveremo un Toz, chissà, si, troveremo un gran Toz, primo pacchetto in the house, 15 mila noi spenderemo tutto, scarta in serie, tutto quanto, via con i Toz, 5危ie Cazzo Subito va�ancy!! Far orrono non manda gliezione controllo bambini pazzo. o un ruolo non rubro o r alive n на il mandato tutto Todo quickly Navi apponto a torta per sì taron maio di prozioro un commento o bologna l'eleno contanto 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 contanto. come rizzi foto gomani timock udison di inpera mangi. ma reale vai 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 che falle le santis schifato ma ti ero giù ho visto il bacino l'ora ho fatto male commentiamo questo decimo pacchetto attenzione ci sarà qualcuno no solo i miei ancora una settimana erano due salarata ma i paesi li d e e il momento o quando i di guardata amore se non sono non sono attenzione io ho detto ecco mai il suo la ecco le azione ecco la pensione e coloro rodrigo ancora tos servizio si è pacchetto che testenza o rischio dice che le dè in maniera è stato un buon panello la serie di scuola credo tutto o o bernardo pazzini lega pazzini un argento che sta così di transizione 7500 ma quale transizione sto cazzo ma pure se intossi d'argento ma che cazzo ci fai guarda gamboa uno che si chiama gamboa abbiamo trovato ndoie gioca in gambia attenzione un toz d'oro ora ci sta ci sta me lo senti ci sta ci sta eccolo eccolo che stavo detto che stavo detto 87 metti sul mercato di riferimenti 180 60 60 c credibile un toz che c'è sta succedendo devi aprire prima il pacchetto quell'altro per trovarlo oh ma mi avevo in tuo cotto oh è rimasto il blu dietro topuz ma perchè tutti tu e chi stiamo a trovare nonostante se non c'è nonostante nonostante sono i casi nove macchetti e nonostante se nonostante se lo troviamo me lo sento vai 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 in coro no no mamma mia un'ora eccolo per il momento sta anche qua sta anche qua bovete che sta qua che sta alex mamma mia raga alex era un occhio ma i centai difensivi scandalosità si erano trovato i termini in un pacchetto vediamo vediamo ancora subito ooooh 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 vabbè 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 versetti i soldi dei soldi capito i soldi si li prendevano tutti gli siamo rifattati finalmente si riuscia a trovantos pure te bravo qualcosa ma non è un uomo non è chissà quanti quando troverai le merci ne riparriamo quando dovrai life quando dovrai i de ferro e de ferro lo trovo io ma che cazzo stai a t attenzione un altro pacchetto non ci vediamo in chiacchiere ci sarà ci sarà ci sarà oooooh oooooh casemiro allora ragazzi diciamo che questo pacchetto è stato abbastanza proficuo e prolifico esatto quindi va bene dopo messi si continua con la sculata pare che stai a cambiare delle acque prossimo pacchetto messi toz noi cominciamo a trovare i giocatori abbiamo trovato due toz porca puttana dobbiamo arrivare a 10.000 like anche a questo pacchetto che va arrivare in un altro si ci vogliamo svinare ne vogliamo fare un altro dove troviamo messi toz me lo sento dai che nas è tutto bella ciao a tutti